Musica Ho appena cacciato giù dallo schienale della poltrona il cuscino che mi serve da mettere dietro la testa quando guardo la televisione siamo qui sempre nel mio studio dove ogni tanto registro i miei video, i miei vlog a cuore libero sono qui in piedi, vedete sono in piedi dietro ci sono i quadri degli armodelli non sono armodelli, sono riberi Paolo, cosa stai dicendo? forse soprattutto non sono quadri ma sono fotografie incroniciate io ci sto facendo con il Cobo Aura qua in mano solo per dirvi che a parte questo piccolo video che ho fatto per il Cobo dell'unboxing ce ne saranno tanti altri, ci saranno tante altre cose che verranno nel canale perché ho detto questo, quasi buttato lì anzi è buttato lì perché la frase la volevo dire in modo diverso ora ci un attimo componiamo e vediamo cosa riusciamo a dire per qualche settimana nel mio canale non avete visto nessun video perché oltre alla vita di Youtube che è molto bello fare unboxing, fare le prove fare video volanti dall'alto, fotografie, droni non droni, aerei, elicotteri e quant'altro c'è anche la vita reale che è fatta di lavoro e impegni che a volte sono più opprimenti del fare un video, chiaramente sono anche molto più importanti quindi se ogni tanto mi capita e vi capita di non vedere video nel canale non è per cattiva volontà, non è perché non penso più al canale non me ne frega più niente e la lascio di andare no, è perché purtroppo ci sono questi altri impegni che non mi permettono di registrare né tantomeno di montare dei video che a volte sapete benissimo ci vogliono delle ore a montare un video soltanto questo piccolo chiacchiericcio con voi mi sta portando via tanto tempo perché ho rifatto il video tante volte perché non mi veniva mai come volevo io ora penso che lascerò questo come definitivo quindi se mi avete seguito fino ad adesso vi chiedo di seguirmi ancora di diventare ancora più numerosi se potete, se volete soprattutto e a breve ci saranno degli altri video a fine della settimana è già pronto un video che come sempre posterò domenica e ne verranno sempre tanti altri non so la precisione io mi do sempre l'obiettivo di metterne uno di modellismo o di cose un po' particolari alla domenica è questo vlog infrasettimanale che questo sapete che è quello più rapido che mi viene da registrare però tutto dipende sempre dagli impegni della vita quotidiana ragazzi quindi stiamo uniti sempre come canale perché il nostro canale, ricordatevi sempre l'ho sempre detto, il nostro canale non è il mio canale mettete tanti like, iscrivetevi numerosi e attivate la campanellina qui sotto, non costa nulla vi consente di ricevere le notifiche appena io pubblico un video e se siamo tanti, più siamo più ci divertiamo ragazzi, grazie di tutto, vi voglio bene alla prossima, ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti